Permettimi di dire una cosa, sicuramente la quantità e la raffinatezza del cibo che c'era nel mio matrimonio non l'ho trovata nel tuo. No ciccia, c'era veramente tanto. No, c'è nel senso, perché era una cosa più rustica. L'arrosticino con l'errozzucchero filato, tesoro mio, c'è nel senso, da. Non ci credo. Voglio arrosticini dentro l'errozzucchero filato. State scherzando?